Così non disturbiamo nana? Giusto! Che c'è? Il tombino! Solleva il tombino! Devo fare tutto io? Oh cavolo! Prendi un bastone, scemo! Trovato! Sbrigati, Kevin! A Ralph non piace perdere il concorso in cui vince chi ha le unghie più lunghe Stai scherzando? Conta i muscoli, sta attento! Lo mollare! Tampocassi! Santa Toledo, tavoletta è sparita! Mangiano tavoletta per assumere fibre così andranno al gabinetto tutti i giorni! È un portale! Hanno catturato Ralph e Kevin per estrarne il teschio! Adesso basta con le scemenze ma quale talpe mutanti! Non tocca intervenire! Gli dimostrerò una volta per tutte che non esistono e gli ha di non rompere! Ok, tutti in posizione? Io sono pronta! Anch'io! Morse alle talpe mutanti! Spero che tavoletta abbia ragione! Tavoletta dice che altri dobbiamo scaricare! scaricare, scaricose come non avete mai fatto! Uno! Due! Tre! Carica! Sai la mia salvezza Ralph! Colpa dell'immaginazione iperattiva di Ed! Ci aveva quasi convinto che qui era pieno di talpe mutanti! No Kevin, no! Ai 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 ai! Non puoi alimentare la scatola delle immagini di Ralph restando su bambino! Deve arrivare a soddisfacente! Va bene! E' questo! Guarda! Guarda! Volevi dire guarda? No, Ralph! Eddiva! Funziona, tumuletta! Yuhuu! Tazze mutanti! Mi soldi! No ci ha trovati, Andy! Talpe mutanti! Salute! Ma è solo testa di calzino! Doppia T! Oh, rigurgitato ma non digerito! Siamo di nuovo insieme come ai vecchi tempi! Il mio cappello, grazie! Doppia! È!